E' luna di notte, è Halloween, alla Grecia forse ha ospiti delle bestioline, darmo nel salone tutte e tre dormiranno, e luna dormiranno, e luna qui neanche l'ombra, dobbiamo fare piano dal Milano, a luna i bambini dormono, ordinatissime una specie di after hour 11 anni, che meraviglia, due bambini a dormire, sono state tutto il giorno a prendere caravelle, non hanno più un dente buono in bocca, tutti cariati, tutti e tutti cariati, quintali e zuccheri, quintali e charms, vedo movimenti quella le ha mollate in due su un materasso, le si è messa in diagonale, le si è messa dove si mette il padre che pesa più di una piota, e in due l'ha buttata su un materasso singolo, secondo te non è? secondo te te l'ha preso? E' figlia d'arte! E' figlia d'arte! E' figlia d'arte! E' la madre si riesco a vivere, tutta la vita! Buona Alleluia! Grazie.